Stamani a Ragusa si è svolta la conferenza stampa per presentare la 41esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea. Calmera Rezzo, il segretario generale della Camera di Commercio di Ragusa, ha affermato sempre di più la sua importanza, sottolineandole le diverse iniziative messe in atto. Una fiera che col tempo si è divisa in settori specifici, tra i quali ricordiamo quello della zootecnica, la quale ospita alcune tra le trazze più nobili e pregiote del panorama zootecnico nazionale, senza dimenticare la nostra razza autoctona, la bovina modicana. Inoltre è presente il settore delle macchinizzazioni agricole, dove il piatto forte sono naturalmente i trattori e altre macchine di lavorazione del terreno. Un'aggiunta in più è andata dal settore agroalimentare, il quale permette una maggiore conoscenza dei prodotti del nostro territorio. Infine, un rilancio importante è quello del settore florio-vivaismo, una delle realtà di punta dell'agricoltura eblea, nel quale vengono presentati varie quantità di piante ornamentali e non, che costituiscono una realtà di grande rilevanza dal punto di vista commerciale. La dimostrazione è che l'agricoltura nella provincia continua a essere settore di riferimento e il punto di forza dell'economia provinciale. In più, credo che abbia, stia strutturando miglioramenti dal punto di vista organizzativo sul piano aziendale le nostre imprese agricole e guardano con sempre maggior interesse alla qualità dei prodotti e ai mercati esteri. Sono convinto che questa edizione della fiera sarà molto importante e celebrerà bene un momento di passaggio perché ricordiamo che potrebbe essere anche l'ultima a essere organizzata dalla Camera di Commercio di Ragusa. Quest'anno si è disposto di uno spazio di 5.700 metri quadri, mille in più di quelli dell'anno scorso. Molte le aziende che volevano partecipare, ma per mancanza di spazi non è stato possibile. Già si vede al futuro quando si uniranno la Camera di Commercio di Ragusa, Siracusa e Catania con un'area più vasta che potrà accogliere circa 200.000 aziende.